Amici di Sport Today, è arrivato il grande giorno. Voi direte, per che cosa? Ieri c'è stata la Champions, domani ci saranno altre cose, stasera c'è l'altra di Champions? No, è arrivato il grande giorno per il recupero della Serie A. Finalmente Bologna e Inter giocano nella follia della Federcalcio, nella follia della Lega. Quest'anno è successo di tutto. Pensate solo alle semifinali di Coppa Italia, dove valeva ancora doppio il gol in trasferta. Una Lega e una Federcalcio che non si sono adeguate in tempo a qualcosa che era stato deciso per l'Europa in ottobre, ma questo è un altro discorso. C'è il recupero Bologna-Inter, tra ricorsi, contro ricorsi, ricorsi e contro ricorsi, potremmo andare avanti ancora chissà quando, si gioca finalmente stasera. Al Dallara staremo seduti o allo stadio o davanti alla televisione per capire se l'Inter ha tre punti in più, ha tre punti in meno, ovvero non ne prende nessuno, ne ha uno se pareggia. Insomma, capiremo meglio questo testa-tester tra le milanesi che forma avrà. È molto particolare quello che è successo, perché in realtà in un altro paese non sarebbe accaduto. D'accordo che la fortuna o la sfortuna ci ha visto molto bene, perché se una delle due squadre, una delle due milanesi, non fosse, soprattutto l'Inter, coinvolta nella lotta per lo Scudetto, se ne parlerebbe molto meno di questa incredibile leggerezza del nostro campionato. Però, fino adesso, non abbiamo mai saputo realmente quale fosse la classifica e mancano quattro turni alla fine. Quattro partite per capire chi vincerà il campionato e lo Scudetto 2022. Scende in campo l'Inter, lo fa con la spinta di quello che è accaduto con la Roma, quindi una squadra che aveva già vinto 3-0, dopo il gol della Roma è stato così un gol per timbrare la presenza, ma l'Inter scende in campo contro il Bologna, che da quando Mijailovic purtroppo è dovuto ritornare in ospedale per i suoi problemi fisici, per la sua lotta, che tutti ci auguriamo sia vincente anche in questo caso, un Bologna che è diventato ancora meglio, ha reagito alla sfortuna del suo allenatore, diventando una formazione che se avesse giocato sempre così, staremo probabilmente parlando di una formazione in lotta per l'Europa, per l'Europa League o per la Conference League. È una squadra molto difficile da battere, una squadra molto messa bene in campo, una squadra che non ti concede nulla e non concederà nulla all'Inter, quindi non diamo nulla per scontato, rimaniamo alla finestra, augurandoci che questo risultato, per chi non tifa né Mila e Inter, generi ancora di più curiosità per questo sprint finale del campionato. E poi il mio desiderio, che non verrà mai esaudito, del Super Bowl del calcio. Pensate solo, quest'anno se ci fosse una partita, una, che decide il tutto tra la prima e la seconda in classifica, ci sarebbe un Milan-Inter che sarebbe storico, entrerebbe nella storia mondiale del calcio. Sia che le squadre, e lo possono fare, arrivino pari, sia che le squadre arrivino con un punto di vantaggio per l'una e per l'altra. Non c'è il Super Bowl del calcio, peccato, comunque godiamoci questo finale di stagione che finalmente sarà chiarito dal tanto agognato spareggio di questa sera. No